Pasqua 2018, siamo in Corso Umberto, in Modicacento, in un Corso Umberto blindatissimo e chiuso al traffico veicolare per far sì che tutto vada bene per questa edizione della Madonna Vasa Vasa 2018. Difatti non si sono registrati problemi alla sicurezza e tutto si è svolto secondo la norma, per cui la manifestazione è tanta attesa, la Madonna Vasa Vasa, che poi è la Pasqua per i modicani. Una manifestazione dove folclore, fede e tradizione si mescolano in un modo tale che non è più possibile distinguere l'uno dall'altro ed è un po' questa la magia della Madonna Vasa Vasa. Un'edizione molto partecipata che ha visto la presenza di numerosi turisti fedeli e devoti sia all'edizione a mezzogiorno che a quella serale. Ad accompagnare i due simulacri per le vie del centro storico di Modica, la banda musicale. Veniamo dalla provincia di Treviso, da Conegliano Veneto, e siamo capitati per caso qui oggi. In realtà abbiamo letto su una guida che c'era questa manifestazione bellissima, davvero molto suggestiva, è bello vedere l'incontro tra la madre e il figlio, quella è la cosa che è emozionante. Quindi vi siete trovati qui per caso? Allora, volevamo visitare Modica, sapevamo che c'era la manifestazione, però non pensavamo che fosse così suggestiva, sentita e che coinvolgesse tutto il paese, dai piccoli agli anziani, quella è anche la cosa che ci ha colpito, che da noi non c'è questa tradizione assolutamente. Consiglio anche una visita di tutta questa zona, è bellissima, veramente ci ha colpito tanto. Ogni anno ci prepariamo per questo evento, che ogni anno sono degli eventi sempre fantastici, cerchiamo sempre di migliorare le cose, cerchiamo di coordinare un po' tutto questo evento, perché dietro, come voi sapete, dietro le quinte c'è tanto lavoro per arrivare a questo. Però io ogni anno ne sono sempre soddisfatto, soprattutto per la collaborazione che mi danno i ragazzi e per quello che noi poi facciamo vedere fuori. Questo è tutto quello fuori, voi vedete, tutti vedono, quello che noi facciamo, tutte le preparazioni, il lavoro, il lavoro che si vede fuori è tutta una preparazione che c'è dietro le nostre spalle. È stata una festa riuscita, ci sono state tutte queste vasate, chiamiamole così, bellissime, riuscite, bello, un'edizione bellissima, veramente, veramente. Quest'anno siamo stati in 54, abbiamo inserito delle marce del nostro maestro Di Pietro, che quest'anno compie 30 anni di attività all'interno dell'associazione della Civica, e quest'anno, in questa edizione, abbiamo suonato qualche marcia di sua composizione. Noi da 30 anni lavoriamo in questa città, partecipiamo a tutte le attività comunque folcloristiche, istituzionali anche del Comune, di Modica, e inoltre facciamo anche una nostra attività concertistica. Il comandante della Polizia Locale di Modica, in un post su Facebook, scrive della forte cooperazione tra Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. La forte sinergia tra le forze dell'ordine ha infatti garantito il successo della manifestazione. Il comandante, inoltre, ringrazia anche i volontari e i portatori di Santa Maria e di San Giorgio, i volontari della protezione civile e della misericordia. Madonna Massava San Modica, sicurezza, cosa possiamo dire? Col deflusso in atto e terminata la processione religiosa, possiamo dire che siamo soddisfatti. Stiamo quantificando l'afflusso di persone fra gli 8 e i 10 mila, compreso un turnover di fasce d'orario. Siamo contenti perché mi sembra che tutto sia andato per il verso giusto, la gente abbia potuto seguire questa tradizione bellissima di Modica. E quindi poi ci diamo appuntamento a stasera per la seconda parte. Oggi siamo stati attivi qua, abbiamo fatto un presidio sanitario in occasione della festa della Madonna Vasa Vasa. Siamo stati in appoggio alle esigenze per quanto riguarda una situazione di massa andropologica. Noi siamo stati attivi con una squadra di un medico e tre volontari soccorritori, volontari che si sono prestati oggi, pur essendo una giornata di festa molto particolare, hanno dedicato un po' di tempo al volontariato e poi dedicarsi alle famiglie. E' stato tutto regolare, non ci sono state delle criticità, ci siamo goduti questo bel giorno di sole, ventilato. Un bel po' di gente l'abbiamo vista.